Arzer Grande, disposto a rinvio a giudizio per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale per Meriem Reili, la giovane di origini marocchine che nel luglio 2015 era scappata da casa dove viveva con la famiglia per andare in Siria a ruolarsi con l'ISIS. In quella guerra personale contro l'Occidente Meriem aveva aderito alla Cyberjiad come soldato dell'esercito informatico e aveva stilato una lista di dieci dirigenti delle forze dell'ordine da uccidere. Per questo su di lei pendeva un mandato d'arresto internazionale. Il GIP Alberto Scaramuzza ne ha disposto a rinvio a giudizio accogliendo la richiesta presentata dal PM Francesca Crupi. La prima udienza si svolgerà il prossimo 16 maggio.